Ballando con le stelle, Gabriel Garco annuncia, devo operarmi al tendine, Gabriel Garco annuncia in un video con Millie Carlucci fornisce aggiornamenti sulle sue condizioni dopo l'infortunio al braccio. Si opererà la prossima settimana, ma resta in gara. Novità sul fronte infortunio per Gabriel Garco. L'attore, protagonista di questa edizione di Ballando con le stelle, sarà costretto a operarsi al tendine del braccio, dopo l'infortunio rimediato nei giorni scorsi che lo aveva quasi costretto al ritiro. L'annuncio arriva dallo stesso Garco, che in compagnia di Millie Carlucci all'interno degli studi del programma, dagli ultimi aggiornamenti attraverso l account Instagram del suo manager, Nando Moscariello, Garco resta in gara nessun ritiro per Garco, dunque, ma coreografie settate sul suo infortunio che gli permettano di muoversi nonostante il dolore al braccio. La scorsa settimana l'attore si era infortunato proprio nel corso delle prove, arrivando ad annunciare, a poche ore dalla messa in onda, di non essere certo di poter scendere in pista regolarmente. Cosa prevede il regolamento di Ballando con le stelle? Come si sa il regolamento di Ballando con le stelle prevede l'esclusione a prescindere di quei concorrenti che non riescano ad esibirsi. Lo scorso sabato, come molti telespettatori avranno notato, Luisella Costamagna aveva annunciato di volersi ritirare a causa del dolore alla caviglia che la affliggeva, prima che giuria e pubblico la convincessero ad accennare anche solo in parte la coreografia preparata in settimana, così da poter provare a recuperare nei giorni successivi. Escamotage grazie al quale Costamagna è effettivamente rimasta in gara e che consentirà a Garco di continuare il suo percorso a Ballando con le stelle.